È stata una buona prova, ho visto un grande impegno da parte di tutti, è ovvio che poi ho dato spazio anche ai ragazzi giovani in cui vedo veramente delle cose interessanti. È ovvio che nel primo tempo la squadra ha espresso un ottimo calcio anche con buone giocate, nel secondo tempo è andata un po' a fasi alterne, però nel complesso generale è contentissimo della prova dei ragazzi. Sono contentissimo di quello che hanno fatto fino adesso, di come hanno lavorato. Devo dire che al di là degli infortuni, che uno si preoccupa sempre di poter far lavorare i ragazzi senza magari farli far male, sotto questo punto di vista sono soddisfattissimo di quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo preso dei giocatori interessanti a partire da Pellegrini e Politano, che vi assicuro che sono due giocatori, magari Pellegrini è un giocatore ancora da formare, però ha grandissimi mezzi, mentre Politano ha più campionati da professionista nelle gambe e si vede. Però contentissimo di questi due nuovi acquisti, è ovvio che se dovessero arrivare un altro centrompista, un attaccante, io sono felice di ospitarli dentro il Sassuolo. Sicuramente è stato un buon allenamento, ormai tre settimane che fatichiamo e secondo me abbiamo fatto un'ottima prima parte di ritiro. Oggi abbiamo fatto un buon test contro una buona squadra e dobbiamo continuare su questa strada. Sicuramente questa squadra e soprattutto il mister fa giocare un tipo di gioco molto meccanico, nel senso che giocano tutto a memoria e diciamo con il lavoro quotidiano sicuramente diventeranno ancora più facili tutti i movimenti. Io comunque il lavoro nel mister già lo conoscevo perché comunque sono stato qua anche due anni fa, quindi la sua filosofia di gioco la conosco molto bene e cercherò di continuare su questa strada. Mi sto impegnando e sto lavorando per entrare in condizione e poi la società vedrà quello che dobbiamo fare.